Il rapporto con l'Europa è un rapporto che noi amministratori sappiamo bene essere spine e fiori, nel senso che da una parte capiamo benissimo che l'Europa è il luogo delle decisioni, che è un grandissimo risultato politico di questi decenni e che è la nostra casa. Dall'altra, come amministratori, spesso ci troviamo a dover lottare con l'Europa, a doverla spiegare come ai cittadini, dicendo loro che non è un nemico ma che in realtà è una realtà positiva, a spiegare come vengono fatte le leggi, la burocrazia che viene dall'Europa. Quindi siamo un po' in mezzo tra l'incudine e il martello.